ciao a tutte benvenute e bentornate a questo video oggi ne faccio ben due di video e vi mostro i prodotti che mi sono stati inviati gratuitamente aiuto sono stati mesi mi sono stati inviati da vecchia bottega da come potete vedere qui mi lascio comunque il link del sito vecchia bottega.it dentro questo sacchetto di carta legato con un cordoncino fatto proprio così molto nature e vecchia bottega è un sito che si occupa di cosmetici naturali biologici quindi ecobio certificati e mi hanno cosa mi hanno inviato sono stati davvero molto molto carini e mi hanno scritto che probabilmente mi invieranno anche altri prodotti mi hanno inviato questa crema corpo anzi questo latte corpo al burro di karité aspettate ecco c'è scritto in un formato da in sotto la marca è questa è la cosmo natural ed è in un formato 250 ml 12 mesi dall'apertura e ora vi dimostro poi farò una recensione dettagliata più approfondito ovviamente una volta provati di questi prodotti direttamente sul mio blog che non aggiorno molto perché non ho il tempo ditemi voi che cosa che come fate qual è il vostro segreto perché allora io lavoro otto ore quindi sto fuori casa almeno nove ore non so voi che avete blog come fate spiegatemelo li fate di notte non dormite cioè io non riesco a probabilmente ho un problema non riesco non sono in grado non sono capace di ottimizzare i tempi quindi non riesco a ecco in questo a utilizzare il tempo che mi ha a disposizione che è veramente poco vabbè andiamo avanti appunto vi ho parlato di questo prodotto mi hanno inviato anche un dei plan della marca che è appunto cosmo naturelle questa è della linea visage quindi per i prodotti dedicati al viso è una marca francese cosmetic bio ecologica esattamente qui c'è comunque anche il sito labo gravier comunque va bene insomma io vi lascio il link di vecchia botella poi lì potete trovare tutti i prodotti che loro hanno e quindi e sono prodotti c'è scritto comunque senza conservanti senza parabeni senza siliconi senza paraffine senza oli minerali senza peg eccetera eccetera senza ogm profumi sono 100% oli essenziali bio insomma qui c'è scritto tutto si leggerà però ha scritto in francese però è facile da tradurre anche se io non so il francese poi mi hanno mandato un altro prodotto che è questo di questa marca che io non conoscevo e non conoscevo neanche l'altra è un flacone dosatore come potete vedere ed è una maschera c'è scritto che è una ma ora qui non c'è scritto comunque è una maschera non è una maschera aspettate un secondo rieccomi in realtà loro nella mail infatti avevo un attimo qualche dubbio perché loro mi avevano scritto carissima Sara ti spediremo il pacchettino contenente la maschera balsamica della biofficina toscana in realtà non è così perché questa è una mousse pulizia profonda deterge e purifica delicatamente profondamente la pelle del viso del collo e quindi insomma c'è scritto qui in italiano non si vede perché scritto piccolo 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 comunque di questa marca che non è la biofficina toscana ma è madara eco face per tutti i tipi di pelle quindi è un detergente per il viso purificante purificante è in un formato da 150 ml ecco cert e e quindi per la pulizia del viso per la pulizia del viso infine mi hanno inviato un sapone che è questo quindi un sapone di aleppo all'olio di oliva di naiel come si pronuncerà ed è dove c'è scritto qui 180 grammi 180 grammi niente c'è il sito di questa marca appunto la naiel e ed è appunto come c'è scritto dietro un sapone di aleppo all'olio di oliva una collega tra l'altro l'hanno usato ha detto che è molto molto buono è un olio extravergine d'oliva ed è un efficace prodotto emolliente e protettivo dell'epidermide nonché un ottimo antiossidante in grado di contribuire di combattere non ci vedo gli inestetismi derivati dal fumo dalle variazioni climatiche e dall'inquinamento a cui è esposto il continuo di continuo il nostro organismo e quindi lo proverò bene quindi vecchia bottega mi ha inviato questo poi un'altra casa che è la Eicos Milano Cosmetics la Eicos produce un solo prodotto che è una crema che è questa non so se si vede abbastanza crema di latte idratante con Oxygen 3 vedete? spero che si veda comunque se volete maggiori informazioni poi andate a vedere il sito poi comunque io lo recensirò che è EicosMilano.it e cosa mi hanno mandato ovviamente cosa mi potevano mandare producendo questo prodotto cioè vabbè fabbricco questo prodotto questa crema mi hanno mandato 3 jar contenente questa crema e cappione gratuito appunto crema di latte idratante con Oxygen 3 e quindi non vedo l'ora di provarle qua dice che riporta questa crema riporta la pelle del viso al suo stato naturale incredibile idratandola e ossigenandola la renderà morbida e naturalmente vellutata al tatto restituendo luminosità e tonicità e questo perché? perché l'Oxygen 3 ha la capacità di agire in profondità ossigenando direttamente il nucleo della molecola cutanea e migliorando l'idratazione e mantenendola nel tempo è adatta a tutti i tipi di pelle questa crema è ricca di vitamine in particolare di vitamina E che insieme al latte combattono le aggressioni giornaliere l'invecchiamento e i radicali liberi bene la proverò vi farò sapere e appunto aggiornerò il blog spero in questo weekend spero tra oggi sabato e domenica e quindi un bacione a tutte ciao